Nella sede della CNA di Caltanissetta si è tenuto il seminario Donne al Centro. L'evento ha voluto celebrare e valorizzare il ruolo cruciale delle donne nell'ambito dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. In occasione della giornata internazionale della donna, la CNA ha voluto porre l'attenzione sul contributo significativo che le donne offrono al tessuto economico e sociale, evidenziando come esse siano parte integrante e vitale dell'organizzazione stessa. Infatti le donne non solo rappresentano una parte considerevole della CNA come lavoratrici, ma anche come imprenditrici, contribuendo in modo tangibile alla crescita e al successo delle imprese sul territorio. È cambiato tanto nel corso degli ultimi decenni per quanto riguarda la figura della donna nel mondo del lavoro, però ancora siamo ben lontani dal risultato che speriamo di riuscire a ottenere. Ancora purtroppo persistono queste differenze, però io sono sempre positiva proprio per natura e credo che riusciremo ad ottenere quello che veramente desideriamo. Noi viviamo in questa regione, in Sicilia, credo che qui c'è ancora più disparità rispetto al nord, che penso che abbiano raggiunto un po' un livello superiore al nostro. Vuoi magari per le occupazioni diverse, vuoi per il lavoro che ce ne sarà di più sicuramente rispetto a questo, vuoi magari per la determinazione delle donne, perché noi abbiamo ancora un po' nella nostra testa questa differenza, credo che sia soprattutto dentro le nostre teste. E se non ci crediamo noi, non possiamo farlo credere mai agli altri. Io credo che la donna non ha bisogno di farsi di queste festività, perché la donna è già importante, perché il ruolo della donna è insostituibile. Il nuovo impegno che insieme dobbiamo fare, voi non dovete cercare le famose quote rose, voi avete il dovere e il diritto di entrare nell'attività sociale a pieno titolo e a pieno ruolo.